Ancora nessun candidato da bruciare, ancora nessun candidato che raccolga convergenze e bipartisan da proporre. È iniziata in tarda mattinata la terza chiama per l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Ancora una volta si preannuncia una pioggia di scade bianche, espressione dell'attendismo di centro-sinistra, Lega e Forza Italia. È nelle segrete istanze della politica ancora che si gioca la partita tra vertici, contatti e trattative incrociate. Quella di oggi è l'ultima votazione che richiede una maggioranza di due terzi per l'elezione del Presidente della Repubblica. Da domani, quarta chiama, basterà la maggioranza semplice e i partiti saranno costretti a venire allo scoperto, profilando la soluzione di un doppio rebus che andrà al Quirinale e, in caso fosse Mario Draghi, che siederà a Palazzo Chigi.